La normativa riguardante gli espiranti al conseguimento della specializzazione sul sostegno, il TFA, tirocinio formativo attivo, la cui pubblicazione del bando per l'ottavo ciclo dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, prevede tre prove. Una prova d'accesso preselettiva, una prova scritta e una prova orale. I posti per ogni singola università sono assegnati dal MIM in relazione alle esigenze del Sistema Nazionale di Istruzione. La norma prevede il superamento di una prova di accesso. La prova della durata di due ore è computer-based e consiste in un test di 60 quesiti a risposta multipla con 5 risposte di cui solo una corretta. I quesiti sono predisposti dalle università e sono volti a verificare le competenze dei candidati sui seguenti punti. Capacità di argomentazione e corretto uso della lingua italiana, competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola, competenze su empatia e intelligenza emotiva, competenze su creatività e pensiero divergente, competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche. La seconda prova consiste in uno o più prove scritte o pratiche a risposta aperta, volte a verificare unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua il possesso da parte del candidato di competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola, competenze su empatia e intelligenza emotiva, competenze su creatività e pensiero divergente, competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche. La prova è superata con un punteggio minimo di 21 su 30. Qualora dovessero essere previste più prove, il voto sarà il risultato della media aritmetica dei voti conseguiti nelle diverse prove. La prova orale prevede un colloquio su quanto appreso durante il corso, facendo espresso riferimento anche alle esperienze formative effettuate. Di norma, gli argomenti sono gli stessi affrontati nella prova scritta. La prova è superata con un punteggio minimo di 21 su 30. Grazie a tutti.